La settimana Santa Nissena potrà stuzzicare la curiosità dei viaggiatori e tirare gli sguardi e conquistare consensi tra quanti si ritroveranno nel molo E dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino dal 4 febbraio al 21 marzo. Già da qualche giorno infatti la maestosa ultima cena è protetta da una teca di vetro per essere ammirata in tutto il suo splendore all'interno dell'aeroporto. Lo scorso venerdì è stata inaugurata nell'area in barchi internazionali l'esposizione del gruppo statuario Opera dei fratelli Biancardi che apre la processione del giovedì santo. Accanto è stata posta anche l'opera di Leonardo, l'ultima cena, alla quale si ispirarono gli scultori per la creazione della vara. La tradizione dei riti della settimana Santa Nissena viene raccontata anche attraverso un totem video posto accanto alla vara con le foto dei fotografi Gettano Camilleri, Walter Locascio, Lillo Micicché, Umberto Ruvolo e Diego Avanzato in un montaggio realizzato dal videomaker Roberto Gallà. Scorrono anche le immagini di Caltanissette e dei suoi principali monumenti spiegati attraverso le schede esplicative e consultabili tramite QR code e tradotte in cinque lingue realizzate dalla storica dell'arte Emanuela Pulvirenti e poi un altro QR code invece rimanda al sito www.lapassionenelcuoredisicilia.it dedicato proprio alla settimana Santa Nissena. All'inaugurazione era presente il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e l'assessore alla cultura Marcella Natale, il presidente degli aeroporti di Roma Claudio De Vincenti, la soprintendente dei beni culturali di Caltanissetta Daniela Vullo, Antonio Amico, presidente dell'associazione Unione Panificatori Nisseni, a cui appartiene la vara, Roberto Morgana, presidente dell'associazione Giovedì Santo e il coordinatore del progetto Michele Spena. Un momento di speranza da una città che ha una storia millenaria, una città ricchissima di culture e di tradizioni, ha affermato l'assessora Marcella Natale. Il progetto è il risultato di una sinergia tra il comune di Caltanissette e l'associazione Unione Panificatori Nisseni, con il patrocinio gratuito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Presente infatti anche il sottosegretario Giancarlo Cancelleri. «È un onore per noi essere qui, esclama, portare un pezzo della nostra cultura nissena. Siamo sicuri che quest'opera, che ha emozionato tutti noi sicuramente, emozionerà ogni passante nelle prossime settimane. Ringrazio il presidente di Aeroporti di Roma, De Vincenti, per ospitare la nostra vara nella sezione partenza, la più importante dell'aeroporto dove chi viaggia si ferma di più», ha affermato il sindaco di Caltanissette, Roberto Gambino. «Quest'anno non avremo le processioni, Monpiono B per la settimana Santa c'è e le vare saranno tutte visitabili. Vogliamo promuovere la nostra città, le nostre tradizioni, qui dove passa tutto il mondo. L'alto patrocinio del Ministero delle Infrastrutture è per noi importantissimo, prosegue, perché lo Stato ci ha fatto sentire la sua presenza. Chi arriva qui sa di essere in un paese fatto di bellezza, di arte, di cultura, racconta il presidente De Vincenti. È la cultura e la dimensione ideale del modo in cui vogliamo che l'aeroporto accolghi i passeggeri. Parla di una vetrina d'eccellenza, la sua printendente Daniela Vullo, per far conoscere le nostre bellezze, sottolinea. Ad inaugurare l'esposizione insieme al cappellano dell'aeroporto anche il parroco della cattedrale nissena, padre Gaetano Canalella, che dichiara la chiesa locale col vescovo Russotto, gioisce di questa opportunità. Un'emozione condivisa da molti dei presenti. «Il mio è un grandissimo orgoglio», sottolinea Antonio Amico, presidente dei panificatori nisseni, «poter mostrare questo bene e orgoglio sia dell'Unione Panificatori sia della città. Portare l'ultima cena a Roma è stata una fatica immane, ma ne valeva la pena quando i concittadini tutti ti abbracciano nel ringraziamento», conclude Michele Spena, coordinatore del progetto, che fa anche riferimento alla recente presenza di uno dei piccoli gruppi sacri nell'aeroporto siciliano. La città di Caltanissetta registra un passaggio di testimone nel momento in cui le avaricedde, che sono state esposte all'aeroporto di Catania, tornano a casa. L'ultima cena arriva a Fiumicino, l'aeroporto più importante.